ciao a tutti bentornati in questo nuovo video siamo su minecraft e oggi non sono da solo perché c'è con me magica girl che adesso dorme quindi ci vediamo dopo appena cerziamo ok quindi adesso cominciò comunque come vedete a registrare con alcuni di voi per il momento c'è dentro solo lei poi vedremo magari di riuscire a trovarci anche un po con con anche altri di voi e niente oggi praticamente andremo a ingrandire la casa e a fare un orto in questo episodio poi poi vediamo se se avanziamo tempo possiamo fare anche qualcos'altro adesso sarà un po difficile comunicare perché non possiamo usare le varie chat per comunque è una certa ora quindi allora io comincio adesso a tirare via un po di alberi qua perché voglio comunque ingrandire la casa qua e qua dietro cominciamo a ingrandire a ingrandire un po poi vediamo anche come 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 fare e in questa zona qua dietro spianare un po anche qua e fare un orto quindi adesso io farò un piccolo taglio e niente ci vedremo poi appena appena ho finito ok abbiamo bonificato leggermente la zona adesso qua vediamo come fare l'orto vediamo in che modo ci sta e abbiamo tolto anche un po di terra e abbiamo tolto anche un po di terra da qua dietro un modo di riuscire a allargare leggermente la nostra la nostra abitazione e adesso però devo devo studiare come fare l'orto perché qua è una zona troppo piccolina non ci sta però non volevo neanche farlo tanto lontano adesso adesso ci ingegniamo poi vi faccio vedere magari mentre mentre stiamo facendo i lavori ok allora ho pensato che per farlo leggermente più grosso perché qua viene anche abbastanza sformato quindi non si può fare bene non rimettere un casino di acqua quelle cose lì quindi tirerò via ancora anche questo questo strato di terra qua e rimaniamo alla stessa altezza della casa ok abbiamo abbassato un po abbiamo reso tutto più o meno a questo livello qua e ho messo anche un'altra fila di blocchi qua davanti alla porta in modo da non avere proprio l'uscita l'uscita dalla porta avere proprio già lo scadino davanti ma fare almeno un blocco in più adesso poi toglierò anche queste piante davanti di modo che noi da casa possiamo vedere giù i nostri i nostri allevamenti ok qui adesso adesso qui verrà fatto l'orto e magari poi allarghiamo anche leggermente la casa in qua adesso vediamo perché anche la casa volevo fare un po' più grossa perché comunque se adesso non so se se staremo stabilizzati qui o se ci sposteremo comunque se cominciate ad entrare anche voi quindi devo cominciare anche a fare in modo che ci state cioè ci siano un po' di posti per i letti quindi magari faremo due piani un qualcosa di un po' più grosso magari per mettere dentro anche qualche cesta in più in modo che se volete ritirarvi le vostre robe nelle ceste potete farlo quindi faremo faremo anche quello sempre sempre in questo episodio poi magari magari vedo se viene troppo lungo perché non so anche quei tagli quelle cose lì se comunque viene una cosa troppo lunga andrò poi magari a dividerlo in due farlo uscire comunque ve lo farò uscire ve lo farò uscire comunque se nel caso in cui lo divido in due ve lo faccio uscire uno il giorno prima l'altro il giorno dopo se no invece segue la programmazione normale bene adesso io farei cominciare a vedere qua stando a un blocco così vedere quanto riusciamo andare in là uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dietro dovrebbe arrivare fino qui qui ma che vada mettiamo mettiamo un po' di terra in questo modo qua in modo che possa contenere l'acqua questa pianta qui verrà poi tolta e adesso da qui andiamo a allargarci di qua no sono andato un blocco troppo in giù ok e facciamo un quadrato fatto così adesso aspetta un attimo che rispondo a Magica Girl ok vado mettere la legna qua almeno Magica Girl riesce a espandere la casa e noi intanto togliamo quest'albero qua togliamo questo non so che roviniamo un po' troppo il paesaggio però essendo qua nella giungla essendo che per il momento voglio rimanere qua perché come vi ho detto mi interessa più che altro sbloccare qualche com'è che si chiamano qualche obiettivo che mi manca qua nella giungla tipo quello dei panna quelle cose lì per il momento vorrei rimanere qua vorrei anche avere un appoggio un mezzo accampamento nel caso in cui nel caso in cui poi vogliamo ritornarci cioè avere qualcosa quindi per il momento rimaniamo qua quindi dobbiamo modificare leggermente la zona adesso andiamo di nuovo a dormire comunque dobbiamo modificare leggermente la zona giusto per avere un po' un po' di spazio per le varie cose adesso faccio anche una pressor plate da mettere qua davanti ok se adesso faccio la pressor plate se sentite un telefono vibrare è perché ci stiamo mandando messaggi su su telegram per metterci d'accordo su cosa fare quindi quindi se sentite se sentite quello se sentite vibrare è per quel motivo lì dunque allora facciamo la nostra pressor plate pedana a pressione in modo che non dobbiamo stare lì a chiudere la porta ogni volta passandoci sopra si chiude in automatico adesso faccio una buca 4x4 qui che poi verrà chiusa però la faccio solo per non dover continuare ad andare avanti indietro con l'acqua intanto dove sto andando posso cominciare a mettere non devo metterla qua devo metterla qua poi facciamo una posso andare anche a prenderla di qui facciamo una pozza infinita lì di modo che per mettere l'acqua non dobbiamo andare a cercarla fino a giù di là ma possiamo direttamente prenderla da qui per riempire il nostro orto quindi andremo a mettere un po' d'acqua così e poi anche qua l'orto magari poi lo faremo magari un po' più grosso magari ci spostiamo leggermente magari lo facciamo via di là allarghiamo magari un po' una zona o via là che vedo che è abbastanza in piano comunque dobbiamo ancora andare a esplorarla quella zona di lì ok l'acqua l'abbiamo messa sembra tutta ferma quindi perfetta adesso la pozza qui la possiamo chiudere vado a fare con questi ciotto vado a fare le slab che non mi ricordo più come si chiamano in italiano dovrebbero essere mezzi scalini vediamo subito lastre di ciotoli ne faccio un po' e andiamo a chiudere l'acqua ok qualcuno l'ho fatto adesso comincio a metterli ok ok adesso questa parte è stata fatta adesso zappiamo un po' tutto il la qualiera del tasto questo qua tanto se vedete che sto giocando in modo diverso dal solito perchè come ho acceso il pro controller della switch me lo dava scarico quindi ho dovuto attaccare i joycon e voi sapete che io con i joycon faccio abbastanza fatica poi volevo chiedervi una cosa vi metterò magari un sondaggio qui chiudiamo tutti sti buchi vi metterò magari un sondaggio nella i nelle schede praticamente nella i in alto che vi comparerà in questo momento qui vi invito a farmi sapere se volete una serie di minecraft più avanti parallela a questa adesso non ripeto non sarà una cosa che uscirà in questi in questi giorni perchè comunque sia è una cosa una cosa a cui stavo pensando adesso e è una cosa comunque che verrà fatta più avanti però era perchè io praticamente ho preso anche minecraft la versione java quindi stavo pensando di portare una serie parallela a questa qua perchè questa qua comunque ripeto che per chi non l'avesse visto gli altri episodi questa serie diventerà il futuro reame reame quello che c'era prima non c'è più e questo diventerà reame quindi praticamente io volevo portare una serie parallela a questa sempre per sbloccare i vari i vari obiettivi che ci sono da sbloccare nel tanto perchè non mi ha dato i semi di grano ma io il grano non l'avevo piantato l'altra volta l'avevo piantato di qua l'avevo piantato di qua ecco perchè non c'era quindi faccio anche tirare su tutto anche questo e faccio anche piantare tutto sulla dicevo sempre solo per sbloccare i vari obiettivi adesso non so non ho intenzione di prenderli tutti anche dalla versione java però qualcuno si qui quindi stavo pensando di portarvi una serie potrebbe anche essere una cosa carina una serie di minecraft ovviamente in single player in modalità estrema modalità estrema per chi non lo sa è praticamente una modalità di difficoltà praticamente difficile però si ha praticamente solo una vita praticamente se si muore quella vita lì la partita finisce quindi anche lì non sarà una serie una serie fissa perchè ovviamente nel momento in cui perdiamo una vita abbiamo finito quindi non sarà una serie dove faremo allevamenti con cose di redstone tutte quelle cose lì perchè non ce ne sarà il caso adesso non so neanche quanto potrà durare però non penso di superare la ventina di episodi e ovviamente però una cosa che se la facciamo la facciamo più in là quindi magari ve lo chiederò ancora anche più in là però comincio a lasciarvi il sondaggio per vedere se potrebbe essere di vostro di vostro gradimento una cosa del genere che vedo che intanto Magica Girl ha fatto la casa andiamo dentro a vedere come è ok sposteremo anche la nostra la nostra pecora e ok l'orto lo abbiamo finito noi dobbiamo solo mettere adesso qua delle 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 torce che si le ho ok pensavo di non averle per il momento non lo chiudo non faccio recensioni ne faremo poi magari più avanti quindi tanto non è non ne vedo la tutta questa necessità in questo momento quindi ok abbiamo messo un po' di torce in modo da illuminare ne mettiamo qualcuna anche qua in giro poi ovviamente più avanti faremo quando andremo nel nether adesso il portale poi lo farò è quando andremo nel nether faremo metteremo magari qualcosa di più carino anche adesso queste qua sono tutte cose provvisorie poi tanto come come entrerete voi sicuramente farete qualcosa di più carino ok per il momento illuminiamo solo così in modo che non spuntino proprio i mob proprio davanti togliamo anche un po' di piante qua in giro adesso lo faremo illuminiamo anche di qua devo togliere ancora quel ponte lì di quando avevo portato le pecore all'altro giorno nello scorso episodio o due episodi fa non mi ricordo più perchè li ho registrati tutti assieme ok una cosa così potrebbe andare abbastanza bene ne mettiamo un paio anche qua sulla costa per cui magari faremo qualcosa tipo una specie di porto piccolino giusto per l'attracco delle barche ok Magic Agriole è andato a dormire noi finiamo di mettere un paio di torce qua in zona intanto vediamo se è tutto abbastanza illuminato se ne manca in giro da qualche parte magari metterne una qua ok si dovrebbe essere abbastanza abbastanza ben illuminato il tutto ne mettiamo una qua sopra la porta qua ce ne no sono giuste ne manca una qua che però c'è lì quindi va bene e andiamo andiamo a dormire poi magari i letti li mettiamo i letti li mettiamo al piano superiore magari adesso vediamo se fare un piano superiore anche ok allora io direi che per questo video ci possiamo ci possiamo salutare adesso io non so quanto è venuto lungo ma noi più di 40 minuti che stiamo registrando quindi non so quanto vi farò vedere comunque magari anche qualcosa della bonifica ve la farò vedere qui c'è ancora un po' di terra si terra e metto giù l'asse volevo fare ecco una cosa fatta così in modo che non abbiamo proprio la ok così dicevo non so non so quanto avete visto quindi adesso noi comunque finiremo anche qua di tagliare comunque lo vedrete anche all'inizio del prossimo episodio io vi saluto per questo episodio se è venuto troppo corto scusatemi ma proprio non saprei anche essendo in due non saprei regolarmi comunque vedo che comunque è abbastanza lungo quello che abbiamo registrato quindi nel caso vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale se volete seguire questa serie o le altre serie che sto portando che ho intenzione di portare più avanti e vi invito a farmi sapere appunto il sondaggio il sondaggio sopra e vi invito a passare dalla descrizione trovate tutti i link per raggiungermi sui miei social i link per raggiungere i miei collaboratori che stanno passando adesso schermo e il codice link se volete aggiungermi sulle varie console che ho attualmente in mio possesso detto questo io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao